Tattica umana Attraverso Corrado Piancastelli Entità A La ricerca dello spirito fa bene al corpo, fa bene alla dimensione psichica. Fa sì che un essere umano non anneghi nella disperazione delle proprie pene, delle proprie sofferenze. In questa misura è utile la ricerca dello spirito. Infatti ho sempre detto Sulla terra è inutile ricercare Dio perché tanto non lo troverete. E il compito dello spirito incarnato non è quello di credere in Dio perché come spirito sa che esiste e non ha questo problema. Però aggiungo Colui che crede in Dio salva per metà il corpo dalle pene e dalle sofferenze perché riesce a capire e a tollerare attraverso quest'atto di fede e di amore tutte le angustie della vita. Quindi il discorso non è sulla necessità di cercare Dio però chi lo trova sta meglio. E, dissi una volta, anche per egoismo, anche per una tattica umana per stare meglio e vivere meglio. E, dissi una volta, anche per una tattica umana Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.